Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento. Dopo il telegiornale, come sapete, ormai da un po' di tempo a questa parte spesso facciamo approfondimenti politici nei quali abbiamo conosciuto tutti i candidati, in modo particolare fino all'amministrativa, al voto della scorsa settimana abbiamo fatto tanti escursos. Adesso conosciamo ancora più in maniera approfondita i protagonisti del balottaggio che come sappiamo saranno nelle vostre intenzioni per quanto riguarda appunto il voto di domenica. Questa sera ospitiamo Lucia Tarsi, candidata a sindaco. Buonasera, benvenuta, ben ritrovata. Un enorme piacere essere qui. La settimana immagino che sia con un calendario abbastanza fitto. La settimana è frenetica. Stiamo facendo 100 milioni di cose, tutte insieme, però con un'enorme soddisfazione. Siamo molto carichi, molto contenti, abbiamo un entusiasmo da parte della gente. Sabato mattina per fare 30 metri di corso ho impiegato quasi un'ora e mezza. Questo vuol dire che le persone mi fermano, mi chiedono, vogliono sapere e soprattutto mi raccontano ancora tante cose. In questi giorni dovrò ancora andare a visitare quartieri e associazioni che mi hanno cercato subito dopo il primo turno perché vogliono approfondire, vogliono capire, vogliono raccontare. Per me è una carica emotiva fortissima e è anche un piacere personale perché non nascondiamo, non stare in mezzo alla gente è sempre molto gratificante. Ti riempiono sicuramente di tante cose, però immaginiamo che un pensiero a domenica sia un pensiero costante. Quindi che voto dovranno esprimere domenica prossima i fanesi per quanto riguarda la loro città? Sì, il voto di domenica prossima lo abbiamo già detto e è stato anche confermato un po' dalle prime impressioni. Più che un voto tra due diversi candidati, a nostro parere sarà un referendum, un referendum tra due modi diversi di vedere la città. Fra chi vuole vedere la città legata ad un PD che ha una sudditanza particolare con Pesaro e chi invece come noi vuole vedere una città autonoma, una città che riprende il suo giusto ruolo di terza città delle Marche, che vuole ritornare a essere una città indipendente che sa prendere le sue decisioni per sì. Sarà un referendum tra due posizioni diverse sulla sanità, tra chi vuole un nuovo ospedale a Pesaro e chi invece come noi crede ancora che la migliore delle sanità sia una sanità diffusa sul territorio e quindi crede che l'ospedale di Fano e l'ospedale di Pesaro debbano continuare a vivere come li ricordiamo fino a qualche anno fa. E sarà soprattutto un modo diverso di intendere la città tra una città dinamica, vitale e moderna come la vogliamo noi e chi invece vuole ancora vedere una città che si accontenta. Ecco, noi non vogliamo accontentarci. Ecco, avete usato questa parola, quella del referendum, per evocare una scelta ben precisa. Ma la sanità è stato un argomento che è stato trasversale a tutti, tutti quanti i competitor l'hanno affrontata. Però voi avete rimesso in ballo un'altra argomentazione in questa campagna naturale, ovvero sia avete riparlato di ASET e del famigerato digestore anaerobico che era, è, sarà nei piani, nei prossimi futuri. È vero. Il tema della sanità è sicuramente un tema molto importante, però questa città ha una quantità di altri problemi e di temi su cui è importante assolutamente fare un dibattito. Il tema del digestore, adesso diciamo semplicemente alla gente, il digestore è un impianto di rielaborazione dell'umido che ha come vantaggio quello di fornire o gas o gas per energia. Quindi tutto sommato è un impianto che economicamente ha una sua validità. Bene, la nostra posizione è quella di accettare l'idea che ogni città, Fano e Pesaro abbiano il loro proprio digestore e ci contrapponiamo invece a chi in questi anni, a partire già dal 2014, ha fatto dei legami, ha stretto dei legami con Marche e Molti Servizi di Pesaro per avere un unico digestore, attenzione, non solo per la provincia di Pesaro, ma anche per parte della provincia di Ancona, collocato a Fano. Questi sono accordi che sono iniziati nel 2014 quindi con la giunta Seri che si era appena insediata e che sono proseguiti nel corso di questi anni nel silenzio totale, cioè non se ne è mai parlato. Ci sono addirittura degli studi di fattibilità che sono stati realizzati tra settembre e novembre del 2018, sui quali non solo il Consiglio Comunale non era stato avvisato, ma neppure il CDA, quindi il Consiglio di Amministrazione di Aset. Uno studio di fattibilità, ho qui sotto il documento e quindi credo che sarebbe opportuno che in qualche modo se ne parlasse. In questo studio di fattibilità vengono messi a confronto i tre siti di Falcineto, di Monte Schiantello e della zona di Bellocchi, zona di espansione industriale. Bene, quindi questo documento è evidente. I quadratini rossi corrispondono a zone inadeguate, i quadratini verdi invece corrispondono a zone con un buon insediamento. Allora, la terza riga ha quattro quadratini verdi e uno giallo, corrisponde esattamente alla zona di Bellocchi. La seconda, che ha tre quadratini verdi, un giallo e un rosso, corrisponde a Falcineto. La prima, che ha un solo verde, due gialli e due rossi, corrisponde a Monte Schiantello. Questo studio di fattibilità ci dice quindi che Monte Schiantello si esclude in automatico, che Falcineto ha problemi con il legame con la rete di gas e che quindi la zona ottimale per il momento risulta la zona di Bellocchi. Quindi uno studio di fattibilità di questo tipo indica in chiaro che l'intenzione di fare a Bellocchi è già partita. Se poi si associa a questo studio di fattibilità i documenti che sono legati alla premialità. Che cos'è la premialità? È la decisione di dare ai dirigenti a Z, ai dirigenti di qualunque associazione, di qualunque ente, un premio aggiuntivo, un premio al personam legato alla produttività. Quindi quando vado a leggere il documento che è del gennaio 2018, che è una delibera del Consiglio Comunale, dove viene indicata la premialità per il Presidente di Aset, troviamo anche qui che la premialità è legata al fatto che il Presidente di Aset si impegni per la realizzazione dell'impianto di compostaggio anaerobico presso il territorio del Comune di Fano. Quindi l'intenzione di farlo a Fano sicuramente c'è. Allora qual è il problema? Il problema è che l'impianto che viene ragionato tra Aset e Marche e molti servizi è un impianto di una dimensione che ingloba sia l'umido, l'immondizia di Fano, sia quella di Pesaro che parte di quella di Ancona. Quindi il problema non è tanto l'impianto in sé, il problema saranno i 30-35 camion che transiteranno per lo svincolo di Bellocchi quotidianamente, il problema saranno le tonnellate quotidiane di rifiuti che verranno portati nel piazzale antistante all'impianto di elaborazione perché l'impianto di elaborazione in sé è un impianto chiuso anaerobico quindi in assenza di ossigeno ma comunque l'immondizia dovrà essere in qualche modo accatastata da qualche parte. Quindi la dimensione di cui stiamo parlando e che è in previsione di progettazione è una dimensione che è sovra-provinciale, cioè accumulerà tutta l'immondizia della provincia e oltre. La dimensione però è tale che l'impianto essendo costruito tutto da Aset sarà un impegno economico assolutamente ingente perché qui non si parla purtroppo della possibilità di costituire un aggregato di aziende, un aggregato di aziende che poi abbiano comunque la responsabilità economica condivisa. Ecco invece qui l'impianto si dice che verrà costruito solo ed esclusivamente da Aset e quindi Aset si dovrà accollare integralmente i costi e qualora è un'impresa comunque, è un'azienda di aziende voglio dire può succedere che non vada sempre tutto bene qualora questa azienda dovesse trovarsi in difficoltà, bene sarà Aset a trovarsi in difficoltà, sarà Aset ad impoverirsi, la nostra Aset potrebbe diventare, entrare in una fase di crisi tale per cui a quel punto sarà gioco forza doverla vendere. Ecco noi vogliamo assolutamente evitare questo, noi vogliamo che Aset continui a vivere in maniera indipendente e autonoma perché è il nostro gioiello ed è comunque una realtà che ha su Fano sicuramente un'importanza assolutamente significativa sia per il posto di lavoro sia perché comunque siamo maggiori azionisti e quindi noi vogliamo assolutamente conservarla. Ecco perché diciamo referendum, dobbiamo cercare di conservare Aset autonoma e fanese contrapposto a chi invece intende svuotare Aset impoverirla per renderla poi più facilmente fagocitabile, aggredibile e quindi acquisibile dentro un'altra realtà molto più importante che Marche e Molti Servizi che sappiamo però è parzialmente pubblica ma parzialmente privata e la quota del privato di Marche e Molti Servizi è assolutamente significativa. Noi vogliamo evitare tutto questo. Bene, chiarissimo e quindi questa argomentazione è entrata nella discussione pre-ballottaggio ma sono tante le questioni che non si sono toccate in questa campagna elettorale, il tema del lavoro, il tema dell'occupazione, il tema giovanile, il tema soprattutto anche del sociale se ne è parlato pochissimo però nel vostro programma c'è una quota importante di tutte queste argomentazioni. Si, ci tengo assolutamente a dire che io sono entrata in questa avventura politica perché vengo da un'esperienza nel sociale che mi ha segnato sia personalmente che anche professionalmente e porto con me questa identità, questa volontà e soprattutto questa esperienza. Non per nulla ho chiamato a far parte della mia lista altre persone che con me avevano condiviso e continuamente e anche oggi condividono questo impegno nel sociale perché l'attenzione alle fragilità, l'attenzione alle marginalità per me è una questione assolutamente focale al centro di quello che vedo come il mio progetto per la città. Sul sociale ci sarebbero una quantità incredibile di cose da dire che non basterebbe il tempo. Certo è che ci sono stati comunque degli aspetti su cui ci siamo focalizzati con maggiore attenzione. Uno di questi è l'attenzione alla disabilità. L'attenzione alla disabilità e, mi permetto di dire, alle famiglie che hanno un disabile perché chi soffre in prevalenza in una situazione, diciamo, di criticità legata alla disabilità sono sempre comunque le famiglie, e mi viene da dire, queste mamme favolose che hanno la forza giorno dopo giorno. Non esistono Natali, non esistono Pasque, non esistono giorni contrapposti alle notte, esistono anni di vita dedicata ad un impegno. queste mamme fantastiche e quasi forse più a loro che non ai loro figli che dedico questo mio ruolo. L'impegno per la disabilità l'abbiamo concretizzato nell'acquisire un'idea che comunque è un'idea che ha una sua qualificazione una sua qualificazione normativa, quella del disability manager. Il disability manager è una figura di, in qualche modo, di regia che deve far convergere tutte le istituzioni che ruotano intorno alla disabilità, gli enti, la scuola, le famiglie, e deve funzionare come un collegamento tra tutte queste realtà e deve diventare quasi una specie di organo di garanzia, cioè deve stare un passo sopra in modo da poter, in qualche modo, ricordare all'amministrazione comunale quali sono i suoi ruoli, i suoi doveri, ricordare alla scuola come ci si deve relazionare in funzione alla disabilità e soprattutto diventare un organo di garanzia per le famiglie, perché le famiglie lamentano questo, non solo sulla disabilità ma anche in altri settori sul sociale, di essere poco ascoltate. Ecco, abbiamo bisogno di qualcuno che riesca ad accogliere le esigenze delle famiglie, che riesca a coordinare, che riesca a costruire progetti, che riesca a diventare un facilitatore, un facilitatore nelle relazioni. Il disability manager questo ha come ruolo e assolutamente, quando diventerò sindaco, se lo diventerò, sarà uno dei primi incarichi che istituirò all'interno dei servizi sociali. Altro problema molto importante sono sicuramente i giovani, ci vivo nel mezzo, so tutte le loro problematiche, che conosco le criticità emergenti, so bene cosa significhi bullismo, cyberbullismo, dipendenze dal tabagismo, dipendenze dall'alcol, dipendenze dalla droga. Questi sono temi che vanno affrontati, non dopo ma prima, bisogna fare prevenzione e lavorare su corsi formativi, non soltanto per i ragazzi quanto per le famiglie. Quindi una formazione alla genitorialità, che assolutamente manca e i genitori e le famiglie ne sentono la necessità. Parlando di giovani, vogliamo assolutamente istituire un fondo a sostegno di tutti i giovani che, pur avendo delle capacità, non riescono a frequentare l'università perché non ne hanno i mezzi. Ecco, questo assolutamente deve essere un impegno. Noi vogliamo far crescere i nostri giovani anche nella formazione culturale e professionale, quindi istituiremo un fondo di garanzia per questo motivo. I giovani non sono soltanto serietà e studio, i giovani si devono anche divertire, devono stare insieme e farlo in maniera assolutamente creativa, pulita, bella e quindi manca un centro di aggregazione. Che sia un centro di aggregazione anche per il divertimento. Noi non vogliamo più che i nostri giovani se ne debbano andare necessariamente verso la Romagna per andare a trovare spazi di divertimento. Ecco quindi che, al di là dell'impegno dell'amministrazione per costituire appunto un centro di aggregazione giovanile, dovremmo cercare di sostenere tutte le realtà economiche che già nel territorio, quindi tutti gli esercenti, gli imprenditori che già nel territorio cercano di realizzare in qualche modo degli spazi giusti per quella fascia di età che va tra i 15 ai 20 e l'altra fascia di età invece che va dai 20 ai 30. sono esigenze diverse e quindi ci devono anche essere risposte e proposte diverse. Quindi il referendum che voi citate un po' come slogan è sui contenuti, non sulle persone, è sul progetto di città che si vuole andare a intraprendere. Assolutamente sì, per noi, ecco, la visione della nostra città ideale è una città, come mi ha detto con una bellissima frase, una signora che ha un contratto sabato mi ha detto perché voi siete concreti e veri. Ecco, questo è il nostro progetto di città. Ho detto a quella signora, ruberò questa frase perché mi è piaciuta molto. Noi siamo concreti e veri, la nostra idea è di una città dinamica, di una città competitiva, di una città vera, una città che non si nasconde, una città che alza la testa, che guarda al proprio futuro e che soprattutto riconosce le sue effettive capacità e potenzialità. Noi abbiamo un tesoro, abbiamo tanti tesori, dalle nostre tradizioni, il nostro carnevale, la fano romana, la fano medievale, la fano del Seicento, abbiamo tanto. Il mare, il territorio, l'enogastronomia, abbiamo veramente un patrimonio. si tratta solo di saperlo utilizzare. Occorre una cabina di regia, occorrono persone competenti, preparate, che conoscano l'idea e il concetto di pianificazione del turismo e promozione del territorio. occorrono eventi di qualità e gli eventi di qualità non vengono mai improvvisati, devono nascere da una base culturale, da una base di competenza e quindi noi abbiamo una visione di città che è diversa da quella attuale e quindi il referendum sarà tra vogliamo avere una visione dinamica, una visione in crescita della nostra città o vogliamo rimanere un paesone. Ecco, questo sarà il referendum. Questa è la visione di città, invece, prendo dallo slogan alle sue spalle, Lucia Tarsi sindaco, se possiamo riassumere, che sindaco sarà? Innanzitutto un sindaco donna, un sindaco donna con la voglia di portare tutta la propria femminilità, tutta la propria sensibilità e la tenacia, perché noi donne sappiamo bene cosa significa essere dure quando c'è la necessità ed essere morbide e accoglienti quando c'è l'occasione. nella nostra vita personale c'è già l'input per avere qualcosa che possa diventare anche una proposta di tipo sociale. La nostra capacità di relazione deve diventare anche una idea di comunità. Nella nostra idea di comunità noi dobbiamo diventare accoglienti, ma dobbiamo anche saper dire i sì e i no. Un genitore sa bene il significato del momento in cui dice sì e del momento in cui invece deve dire no. Ho torto collo anche quando è scomodo, anche i no scomodi però vanno detti. Noi dobbiamo imparare ad essere decisi, ma con l'estrema serenità di avere comunque un progetto e un obiettivo, che non è un obiettivo di sei mesi e non è un obiettivo di un anno, è un obiettivo sul lungo termine. Noi dobbiamo lavorare su obiettivi con orizzonti temporali che siano anche oltre il mandato, perché solo così possiamo vedere crescere la città. Il progetto deve essere un progetto di sistema, deve essere un'idea di collaborazione e soprattutto un'idea legata ad una competenza. Sono parole che continuo a ripetere. Collaborazione tra chi ha le leve del potere e i cittadini. Una scelta come quella del digestore anaerobico a bell'occhi doveva essere presentata ai cittadini. I cittadini non ne sapevano niente, non ne sapeva nulla nemmeno il Consiglio Comunale, onor del vero. Quindi le scelte di questo livello devono essere condivise con la città e la gente deve poter esprimere il proprio parere. Poi una scelta insieme si fa. Occorre una capacità di mediazione e lì una donna ci sa mettere tutte le sue possibilità e le sue competenze. Quindi la visione di città è sicuramente una città molto più vitale di quella che abbiamo conosciuto e, ripeto, una città competitiva, una città che guarda avanti e che ha fiducia nelle proprie possibilità. Benissimo. Grazie a Lucia Tarsi, candidato sindaco per il prossimo ballottaggio di domenica e per aver espresso anche la sua visione e anche il suo impatto personale in questa avventura che l'ha coinvolta insieme agli altri competitor. Bene, grazie a voi anche cari telespettatori per essere sempre così presenti. vi ringrazio perché questi approfondimenti sono sempre frequentatissimi da voi e vi danno l'opportunità di conoscere argomentazioni importanti per tutti quanti molto molto da vicino. Grazie. Grazie. Io ringrazio per poter essere qui, per poter parlare alla gente perché spesso le persone che mi fermano mi dicono che non mi conoscono. Queste sono occasioni importanti perché ci si possa confrontare e rimango comunque sempre a disposizione di chi avesse piacere di parlarmi personalmente perché io voglio essere un sindaco in mezzo alla gente. Benissimo. Grazie e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie.